Michael dice di non sentirsi molto bene, ma è sempre così fra un libro e l'altro. Soffre di insonnia, pensa che ogni mal di testa sia il primo sintomo di un tumore a cervello. Appena si metterà a lavorare a qualcosa di nuovo starà benissimo. Sai, oggi ho visto Jane Charlton. Sì, sì, grossa come un pallone, avresti dovuto vederla. Uno spettacolo. No! Ma Laila, dopo lo stesso del suo primo film... Il suo primo truscio libro. Guarderemo amici come tutte le settimane, Jeffy. Almeno posso registrare il film. Stiamo già su registrarsi per il superquark per la mamma, ha il telefono con la zia rossa, non vuole venderselo. Ma perché registrare il superquark? È sempre quello, l'odio del cielo. Non direte del cielo, Jeffy. E tu non chiamarmi Jeffy. Jeffy, Jeffy, Jeffy. Povero Jeffy. Ma è impossibile che non ve ne freghi niente. È stato il suo primo film. Domani puoi andare in videoteca a noleggiare, se ci tieni tanto a vederlo. Non posso. Lo sai che vedete il minore di 14? Allora chi dà pavere di registrarselo con i videoregistrati del suo piccio. Zitti, zitti, cominciamici. Adoro, Maria. Eh. Sono tre settimane che Kelly non torna a casa. Sta preparando degli esami e preferisce non distrarsi. Non sa quanto mi manca. Jeffy, volete essere tanto cari di non fare tutto questo chiasso? Ma non stiamo più facendo caso adesso. Stanno sempre a bisticciare. Kelly almeno riusciva a tenerli buoni. Ma adesso che è via per la scuola, io non so se sia stata una grande idea mandarla ad abitare lontana da noi. A volte, quando ho telefono, la sento così triste. Allora, la sento così. Buu! Ciao Jeffy! Come mai non ti sei spaventato? Spaventare è il mio mestiere, come ci ho fatto il cavo. Questa non va? Papà mi hai registratato a mano rossa con il tuo videoregistratore? Sidreni ed Elis mi hanno soffiato la tele. Sei sicuro di volerlo vedere? Guarda che parecchio... Sì sì, lo voglio vedere!